Visto che sono tre giorni che mangio cose che non vanno bene, carbonare, pasta asciutta, dolci eccetera, oggi giornata salutare. Ora mi faccio una centrifuga, poi faccio anche un po' di allenamento. Ma cosa serve per una centrifuga? Visto che io praticamente di frutta non ne mangio, userò mele e poi le arance. Ma manca ancora una cosa, questa è una cosa che pesa una tonnellata, praticamente non l'abbiamo quasi mai usata in casa ma ora è il momento di usarlo. Una volta tagliata la frutta va messa dentro a questo coso che praticamente è magico e separa tutto dal succo. Nel caso un pezzo non ci passasse è come il gioco che facciamo da piccoli con le forme, col triangolo, il cerchio eh, bisogna adattarlo per farlo passare dentro qua. Una volta pronto basta versarlo nella tazza. Fa un po' cagare eh. Adesso dovrei fare un po' di allenamento eh. Domani se riesco faccio un video su come fare gli ordini con Food Racer perché dopo questa emergenza va cambiata qualche abitudine nel fare questi ordini. Il video sulla giornata salutare finisce qui. Ci vediamo domani.